Scusate, chi sareste? Sono Chanel Oberlin, loro sono le mie minions, vogliamo vedere Melanie Dorcas La signorina Dorcas non accetta visite Data la natura della sua deformità ha scelto di restare in solitudine da quando è tornata dall'ospedale Mi scusi, ma sembra che ci sia un malinteso Le ho parlato stamattina, sembrava entusiasta l'idea di vederci E questo pulso? Sono i mastini A parte me l'unica compagnia della signorina Dorcas Sono questi cani aggressivi che fanno la guardia ai corridoi Voi aspettate qui, avviserò la signorina che siete arrivate Dov'è numero sei? Dovrebbe essere già arrivata È strano, ha detto che stava arrivando Guardate qui stava arrivando Mi sono state i nostri spie Grandi Ho fattato! Ho fattato! Ho fattato! Ho fattato! Ho fattato! Ho fattato! Grazie a tutti.